Ciao a tutti, eccoci arrivati al nostro secondo unboxing. Per l'occasione abbiamo un gioco per la PlayStation 4, This War of Mine, The Little Ones. The Little Ones è la versione per console, edita da poco, da Deep Silver, e praticamente aggiunge qualcosina al gioco già disponibile su Steam da alcuni mesi, penso. Come vediamo dietro abbiamo la classica descrizione del gioco, lo spazio occupato, chiede 2GB, le classiche cose di salvataggio, riproduzione remota su PS Vita, il bollino 18, che è abbastanza giustificato dai toni del gioco. Come possiamo vedere dalle immagini, eccole qua, qui dietro, anche un pochettino dall'immagine iniziale, il gioco è uno strategico gestionale che ci fa gestire appunto questi sopravvissuti a una guerra, e avranno i loro casini, diciamo, a restare vivi e a sopravvivere a varie dipendenze da droghe, da pestaggi, saccheggi vari. Andiamo ad aprirlo, andiamo ancora in celofanato, senza fare un infinito casino, eccolo qua. La copertina è molto bella e fa subito capire il senso di straniamento del ragazzino, che ovviamente si trova in questa ambientazione in mezzo alle macerie post-atomiche, post-guerra. Eccolo qua. Lo apriamo, notiamo purtroppo la mancanza del libretto, tutte le varie garanzie, tutti i vari attenzioni, varie eccetera eccetera, sono sul retro della copertina. Purtroppo sentiamo abbastanza la, specialmente noi retro gamer, sentiamo abbastanza la mancanza di questo, del libretto che magari ci spiegava qualcosina sul gioco, sui personaggi. Lo farò io comunque. Il blu-ray del gioco. Viste le dimensioni in realtà non so perché utilizzino un blu-ray, ma tant'è, il gioco è per Play 4. Cosa dovremmo fare? Vediamo di farvi vedere un attimino meglio le immagini sul retro della copertina. Sostanzialmente avremo a disposizione questo, che è il nostro rifugio, dove dovremo gestire un numero variabile di sopravvissuti, cercando di portarli sani e salvi, possibilmente tutti, fino alla fine dell'ostilità o comunque fino alla fine del conflitto. Dovremo gestire il loro livello di stress, i loro vizi, cibo, bevande e quant'altro, andando un po' a procacciarci il necessario nelle zone vicine. Il gioco, come possiamo vedere, è completamente in italiano. Mi è sembrato di sentire un buon doppiaggio. Il gioco, io l'ho preso vedendolo proprio sul PC di Mike, è disponibile per Steam, Xbox One e PlayStation 4. Più avanti probabilmente vi lasceremo un qualche feedback sulla nostra pagina YouTube, sulla quale vi invitiamo a mettere un like se vi è piaciuto il video, oppure direttamente a darci qualche commento. Abbiamo anche la pagina Facebook, dove presentiamo sia i nostri progetti come appunto questi video, e anche qualche trailer su quello che verrà in futuro. Un saluto e ci vediamo al prossimo unboxing!